La sua faccia sarà uomo. Che roba, che giustizie è? La milizia di Pohn è composta da agenti a contratto, quindi se fanno casino perdono il lavoro. Se crea un diversivo loro mandano altri uomini, quindi meno uomini alla Bloom. Vediamo un po' il percorso di T-Pohn. Questi qui seguono un percorso fisso. Per me è una fortuna, sì. Per me è una fortuna, sì. Vieni. Ma che accidenti sta facendo? Ma qua, non è di da proprio ridicolo. No, no, ha un'arma. Ha un'arma. 9-1-1, la natura dell'energia. C'è un uomo un giro armato. Ehi, ehi, qui c'è uno tutto strano. Vestito da carro armato. Prendetelo, ora! Per gole sta sparando, è porca puttana, sembra un film. Caccio! Andategli addosso, forza! Andategli addosso. Ci serve una mano! Ok? Ci serve aiuto! Andategli addosso! Sulla fiancata! Colpitelo! Colpitelo! Triviamail! Questa rispesta! Arora! Turctionaldı. Ch SM in Forza35. Questa risposta! Io. Il ifante! Il viviente di fama! Sbattetelo fuori strada! Andateli addosso, porta! L'auto è andata! È esplosso qualcosa! Colpitelo! Buttatelo fuori strada! Buttatelo fuori strada! Alla Bloom sono disorientati. È la nostra occasione. Merda! Perché non ti ho incontrato anni fa? Le cose sarebbero andate... Calma. Ci penseremo a Chicago. Hai già pronto il virus? O meno. Più o meno? Più! Funzionerà! Credo. Sei sicuro? Sto entrando nella gabbia dei leoni. Non fare scenate! Tu raggiungi il server. Funzionerà. E tu saresti la leggenda di cui parlava Clara. La che? Chi? Lascia stare. Se T-Bone verrà con me a Chicago, dovrò entrare nell'edificio. La sede della Bloom. Esperti di sicurezza... Non sarà facile. E io sono già sul loro radar. Ma una volta finito qui, avrò finalmente a Raymond Kenny dalla mia parte. Sono all'entrata. Ehi, sta attento. Non puoi entrare lì dentro tranquillo. Tutto il perimetro è sorvegliato. Non farti beccare o spegneranno i server. E avremo chiuso i giochi. Non farsi beccare. No problem. Non puoi entrare. Partito. Non puoi entrare. E ristarci. Alguien! Un'altra volta. In coli! Un'altra volta! Un'altra volta all'ultima. Un'altra volta all'ultima. Aiuto! Un'altra volta. Un'altra volta all'ultima. Una volta là... ...n'altra volta. ...eva il piang. ...eva il piang. ...eva è adesso? ...eva è da te dar. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. E non ril Tutto fatto. che... Grazie a tutti. ... tranquilla, non è un... Se non soldi. ... e...